Allora il 23 dicembre 2016, proprio alla vigilia del Natale, ci fu un attentato, un incendio doloso che distrusse nel comune di San Fratello in Sicilia, distrusse il centro del cavallo San Fratellano che è un luogo d'origine, San Fratello è un luogo d'origine di questa razza equina autotona che è una delle vere e proprie eccellenze dell'allevamento equino del nostro paese che è custodita in Sicilia e fu un attentato e la struttura fu rasa completamente al suolo. Adesso, dopo 4 anni, dopo 5 anni, per fortuna la struttura è stata rimessa in piedi e l'attività ha potuto riprendere quindi un segno di speranza contro la criminalità che vuole davvero ridurre qualunque possibilità di autonomia per esempio nel Parco dei Nebrodi e con l'ex presidente del Parco dei Nebrodi che proprio nel 2016 anche lui subì un attentato della criminalità, noi siamo collegati. Buongiorno a Giuseppe Antoci, presidente onorario della Fondazione Caponnetto ed ex appunto presidente del Parco dei Nebrodi. Stavo ricordando, dottor Antoci, che lei proprio nel 2016, lo stesso anno in cui fu incendiato il centro dell'allevamento del cavallo San Frasellano anche lei subì un attentato mafioso. Buongiorno, buongiorno. Guardi, quello è stato un anno complicato e quel 23 dicembre è stato veramente un brutto regalo di Natale. Questa ricostruzione, questo finanziamento, io proprio ai microfoni del Tg1 allora dissi quella mattina con le ceneri ancora fumanti lo rifaremo più grande e più bello. Trovammo i finanziamenti, li abbiamo affidati al Comune di San Fratello, i lavori sono andati avanti e quest'anno, il 23 dicembre, abbiamo inaugurato insieme al sindaco Salvatore Sidoti e le autorità massime dello Stato e abbiamo inaugurato questa rinascita, questo cavallo San Fratellano che quel giorno, quegli occhi di quei cavalli che si erano salvati, impauriti ma fieri, mi diedero la forza proprio di dire lo rifaremo più grande e più bello. Ecco, questa è una pagina di vittoria in quell'anno complicato. È una pagina di vittoria perché le mafie e la criminalità si combattono prioritariamente con lo sviluppo, con il lavoro, con l'ambiente, con le tante persone per bene che popolano questo territorio e alle quali questa struttura è dedicata. Qui ci sono dei segnali importanti, Pavarotti regalò tutti i box dei cavalli, quei box che oggi sono dentro questa struttura, questa sala che sarà una sala multimediale dove i ragazzi potranno venire a studiare questo re dei Nebro, di questo cavallo San Fratellano che è il vero vincitore di questa vicenda. Loro hanno perso, lo Stato ha vinto. È veramente bellissimo, è un cavallo stupendo. Presidente, tra l'altro il centro di equitazione evidentemente oggi è anche un modello per chi vuole avvicinarsi al mondo dell'equitazione. Ma questa struttura darà la possibilità proprio in sella a questo cavallo San Fratellano di girare i Nebro, di fare escursionismo, soprattutto darà la possibilità a tanti ragazzi di avvicinarsi all'equitazione, di frequentare questi luoghi. Vedete, questo è un territorio così bello, ci sono luoghi dal quale si può vedere, alle spalle l'Etna, di fronte i boschi, i laghi, il mare e le isole Olie contemporaneamente. È un posto stupendo che qualcuno pensava di poter tenere sotto scacco e invece il lavoro che abbiamo fatto insieme ai sindaci, insieme alle persone, insieme alla magistratura e alle forze dell'ordine hanno portato. Questa struttura a rinascere e invece coloro che tentavano di sottometterla oggi imputati in uno dei più grandi maxiprocessi mai effettuati in Sicilia alla sbarra con le prime condanne all'abbreviato pesantissime e ci aspettiamo in primavera la chiusura delle sentenze, anche queste, ci aspettiamo delle pene esemplari. Ecco, vedete, a volte il tempo rimette sempre a posto le cose. Noi siamo qui a celebrare una vittoria, loro sono dove devono stare a pagare il conto alla giustizia per quello che hanno fatto. Comunque, dottor Antocci, per concludere ricordiamo sempre questo messaggio fondamentale. Per battere la criminalità organizzata serve lo sviluppo, serve l'occupazione, serve il lavoro, serve dare le prospettive ai giovani. Assolutamente, questo è il segnale che parte da questa vicenda. Grazie, grazie Presidente.